Questo è l'ultimo treno, aveva esordito il sindaco Anna Maria Cassini nei giorni scorsi parlando del corridoio Tireno Adriatico, mentre quando il discorso si è spostato sul tema dei trasporti urbani, con molta sincerità, aveva fatto notare che si stava passando dalle stelle alle stalle e a conti fatti aveva ragione perché la settimana che volge al termine ha fatto registrare una serie di disagi su fronte del trasporto pubblico. Per insufficienza di bus a disposizione del Parco Menzi sono saltate ben 25 corse nel giro di una settimana, mentre per la giornata di oggi sono state soppresse 18 corse di linea, nemmeno a farlo apposta, in seguito a guasti intervenuti alle 14 di ieri su un autobus del servizio urbano e gli utenti sono stati avvisati tramite una comunicazione pubblicata sulla home page del sito istituzionale del comune di Sulmona. Chi non è assiduo frequentatore farà la mara scoperta nelle varie fermate bus dislocate per la città. Sono 55 le corse soppresse in due settimane, il numero comincia a salire e spaventare gli utenti che ormai ci hanno fatto il callo con i disservizi e la cancellazione delle corse. È solo una questione di tempo, ripetono da Palazzo San Francesco, perché due nuovi bus acquistati con la gara d'appalto devono entrare in dotazione, mentre per l'esternalizzazione del servizio è iniziato il conto alla rovescia. Ma nelle more di questo periodo, anche breve, gli utenti devono poter usufruire del servizio con tutta serenità. Ecco perché i disagi cominciano a diventare numerosi e intollerabili da parte dei sulmonesi. I due bus acquistati con la gara d'appalto devono ancora entrare in dotazione, si andranno a raggiungere ai 7 che funzionano. 13 invece sono fuori uso da tempo. Da qualche mese intanto, come previsto nel piano assunzioni 2018, è stato reperito un funzionario per il quarto settore che si sta occupando nello specifico proprio dei mezzi. Ora stiamo attuando quando programmato, aveva spiegato il vice sindaco e assessore comunale Luigi Biaggi. L'obiettivo quindi resta quello dell'esternalizzazione, mentre il comune intende mettere mano anche al deposito dei trasporti con operazione di bonifica, senza venir meno alla concertazione contua per evitare la sovrapposizione di corse orari. E su questo, almeno a detta di Biaggi, ci si sta lavorando. Come pure sono state annunciate nuove assunzioni per dare manforte a un settore che resta in ginocchio. L'elenco delle 18 corse di linea cancellate è consultabile sulla homepage del sito del comune.